Una carta di servizi per tutti gli studenti universitari d'Abruzzo. E questa è l'iniziativa dei tre Atenei abruzzesi, Pescara Chieti, Teramo e L'Aquila, come primo passo verso il sistema universitario abruzzese. Una carta che potrà essere utilizzata per i pagamenti, ma anche per i servizi e gli accessi interateneo, mensa, biblioteche, scontistica, in tutte le sedi delle università. Il partner bancario dell'iniziativa è la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Dagli ingressi alla certificazione degli accessi, questa carta può diventare la carta del cittadino studente nell'idea degli Atenei. Il sistema universitario abruzzese è un obiettivo che le tre università, per il tramite dei direttori, anche con la collaborazione dei tre direttori generali, si sono date già dall'anno scorso. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa in base al quale abbiamo deciso di condividere taluni servizi a vantaggio degli studenti, la possibilità di accedere alle reti wireless nei tre Atenei, di andare nelle strutture delle biblioteche, dei centri linguistici delle tre università, solo essendo iscritti ad una delle tre. Quindi è un modo di aprire. Questa coesione fra le tre università si andrà sempre più ampliando nei limiti del possibile, sia dal punto di vista delle strutture amministrative, ma anche stanno lavorando i rettori, perché si sia una collaborazione più stretta dal punto di vista della didattica. Lo spirito dell'iniziativa è fornire dei servizi aggiuntivi, dei vantaggi agli studenti, in modo tale che possano muoversi più facilmente tra le università e accedere ai servizi che magari vengono dati da un'università rispetto ad un'altra, in modo tale che ci sia più mobilità dello studente all'interno del territorio abruzzese.